E rimaniamo sempre a San Dona di Piave e dalla formazione, dal lavoro, dalla crisi aziendale passiamo anche ai movimenti politici che si stanno formando. Si avvicinano le prime sfide elettorali e i partiti stanno scaldando i motori. Accade anche a San Dona di Piave dove si è riunita la missione azzurra con Stefan Echel, coordinatore regionale dell'esercito di Silvio e Francesco Caberlotto, responsabile provinciale del club Forza Silvio. Serata in bireria con i coordinatori e i sostenitori del neonato club Forza Silvio di San Dona, giubbotti rigorosamente azzurri ma non solo, a proposito di motori pronti per le corse elettorali, anche un'auto con il logo del club Forza Silvio.